abbiamo chiesto a diverse persone di dirci di definire dors in tre parole e il profilo che ne scaturisce devo dire decisamente interessante allora ci sono delle parole serie per esempio competente affidabile utile ci sono delle parole che potrei definire all'avanguardia resiliente performante intersettoriale allora ci sono delle parole che sono quasi imbarazzanti per la responsabilità che danno ad ors necessario aggiornamento aggregante ovviamente non mancano le parole critiche poche perché forse chi critica preferisce non dircelo qualcuno ha detto timide rompiscatole multiforme e poi ci sono delle parole curiose suole cuore amore non ci crederete non parlavano di sanremo le hanno veramente scritte anche se non tutta la stessa persona le mie tre parole sono più che altro un auspicio perché dors sia sempre più così dinamico innovativo reattivo ciao 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 c